Bocciatura su tutti i fronti per l'amministrazione comunale di Gela da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini chiedono le dimissioni del sindaco e degli assessori perché, dicono, possano prendere atto del fuoco negli animi dei cittadini, fiamme che loro stesso alimentano. In una nota, il gruppo consigliare, tanto caro a Beppe Grillo, sottolinea che la tensostruttura di Marchetella brucia, i mezzi della Gelas bruciano, Marchetello brucia durante il mercato settimanale, le auto dei cittadini continuano a bruciare, gli ombrelloni cadono, le strisce cambiano colore, la munnizza o brucia o viene usata nelle strade come una barricata nelle cinque giornate di scavone. Gesto incivile da condannare che offende soprattutto la gente per bene di quel quartiere. Questa giunta, ferita dalle sue stesse condotte, adesso fa la vittima, dicono i grillini, con qualcuno che parla di chissà quali regie occulte, ma la verità è che non c'è nessuna regia, nessuno in città destabilizza niente, questa città sta semplicemente pagando la destabilizzazione politico-amministrativa nata dal fatto che nessuno ha mai votato Messinese, Siciliano, Salinitro, Morello, Abela, Catania, Di Francesco. Costoro, forse solo oggi, si accorgono che 22.000 gelesi hanno votato il Movimento 5 Stelle, il cambiamento, un progetto, un'idea che oggi travolge la liturgia della politica che ci ha portato alla disperazione. Nessun gelese vuole questa giunta, ribadiscono i grillini, prova ne è che in Consiglio Comunale nessun consigliere rischia di appoggiare apertamente un sindaco privo di programma e progetti. Il Movimento 5 Stelle di Gela, il meet-up di cittadini gelesi, vengono traditi da questa giunta destabilizzante ogni giorno. Noi, dicono, stiamo senza se e senza ma, ma con la città civile, con chi vive oggi questo incubo, con la società migliore e con la democrazia rappresentata dal voto popolare. Per questa ragione, per l'ennesima volta, non possiamo che condannare le azioni della giunta e, come parte politica, ribadiscono come cittadini, continuiamo a chiedere le dimissioni del sindaco e degli assessori tutti.